Buonasera e allora ci siamo perché tra poco nel telegiornale parleremo di quella quella cena tra il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Europea Juncker. I due sono arrivati, scambio di saluti, stretta di mano, siamo amici, ha detto Conte, non c'è nessun problema, nessuna voglia di andare allo scontro ma insomma è una cena, lo abbiamo detto, è ridetto particolarmente importante perché è l'incontro che dovrebbe un po' riallacciare il dialogo dopo la bocciatura, a metà settimana da parte della Commissione, della manovra presentata dal governo italiano. Alla vigilia, già da ieri, le dichiarazioni del Premier Conte oggi ha rilanciato dicendo siamo pronti ad andare a trattare ad oltranza. Ieri c'era stato quel siamo disposti a rimodulare la manovra, ecco su questo sembra giocarsi a partire da questa sera, è una cena quindi un incontro tutto sommato informale, certo non uscirà un documento ufficiale però dicevamo è il punto di partenza per ripartire con il dialogo e Conte si presenta con questi due punti, insomma una certa disponibilità, certo non i toni che erano stati usati subito dopo la bocciatura, durissimi con scambio di battute, le ricorderete in particolare tra Moscovisi e Salvini, durissimo. Ma che significa andare ad avanti ad oltranza e rimodulare? Ecco sentiremo, cercheremo di capire nel telegiornale, quel che è certo è che tra le ipotesi ci sarebbe quel cercare di allungare i tempi, si parla di sei mesi nell'approvazione e poi nell'applicazione dei provvedimenti, pure perché anche Conte, non solo i vicepremier oggi hanno confermato tutti e tre che su riforma della Fornero e reddito di cittadinanza non c'è tanta disponibilità. Ma insomma vedremo, vedremo pure perché la cena ora non è per fare il conto alla roescia ma insomma dovrebbe iniziare a momenti e magari arrivano altri elementi, altri dettagli. Non parleremo solo di questo nel telegiornale perché in scaletta c'è anche la manifestazione a Parigi durissima con scontri, decine di feriti, oltre 30 persone arrestate, la manifestazione dei gilet gialli contro l'aumento del prezzo della benzina è diventata una manifestazione contro Macron e contro il governo francese tanto che il ministro dell'interno francese ha attaccato duramente l'esponente della destra, Marine Le Pen, di aver incitato ai disordini all'interno della manifestazione a parte, tanti sono andati lì pacificamente, ma c'erano gruppi di estrema destra si è detto infiltrati. Manifestazioni in Italia contro la violenza sulle donne, tante in piazza, a ricordare i numeri impressionanti del femminicidio delle donne uccise da mariti e compagni dagli uomini, è successo anche oggi, è successo a Firenze, un uomo ha ucciso la fidanzata, la compagna. Ci sono decine, ci sarebbero perché anche qui le notizie devono essere confermate, ma quello che raccontano i sopravvissuti, i contatti che arrivano, ci sarebbero decine di morti in un viaggio, come si dice la Speranza, un barcone da quale sono caduti migranti annegati durante la traversata del Mediterraneo con annessa polemica, ancora una volta Italia contro Malta, Salvini contro Malta, che avrebbe dirottato la rotta di un'altra barca verso l'Italia e Salvini attacca, è una vergogna e se la prende anche con l'Unione Europea. Ma insomma ci siamo, è il momento della pubblicità a seguire, partiamo con i telegiornali e partiamo con i titoli. Il governo vuole un dialogo costruttivo con l'Unione Europea, il Premier Conte vede Juncker a cena e annuncia che la Commissione farà un negoziato ad oltranza, intanto i Vicepremier Di Maio e Salvini dichiarano che si va avanti uniti, nessun rimpasto, dice Di Maio, di Salvini mi fido. E il contenzioso sulla manovra con Bruxelles in queste ultime settimane ha portato il nostro Paese a perdere, come ha ricordato Banca Italia, qualcosa come 85 miliardi di ricchezza finanziaria, ecco perché serve arrivare subito ad un'intesa, altrimenti il rischio è quello di pagare un conto troppo salato. E violenti scontri e lacrimogeni sugli Champs-Élysées a Parigi per la protesta dei gilet gialli, una guerriglia con la polizia in assetto anti-sommossa con i manifestanti che hanno provato ad accedere alla zona rossa vicino all'Eliseo. Il ministro dell'interno francese ha accusato Marine Le Pen di aver incitato ai disordini. Non è vero la replica, 34 le persone fermate, 24 feriti, tra cui 4 polizioni. Un barcone con 200 migranti a bordo, probabilmente partito dalla Libia, è stato intercettato poco fa a largo delle coste siciliane. Il ministro Salvini accusa Malta di non aver soccorso l'imbarcazione che era stata avvistata in zona SAR-Maltese. Ci risiamo, tuona il vicepremier, è l'ennesima vergogna di questa Unione Europea incapace e dannosa. Si apre così un nuovo caso, a largo anche c'è un barcone, un altro barcone con 70 persone a bordo che ha lanciato l'SOS. E manifestazioni in Italia aspettando la giornata mondiale contro la violenza sulle donne domani. Le cifre sono la fotografia di una situazione sempre più tragica nel nostro paese. Solo nei primi nove mesi del 2018 sono stati 32 i femminicidi, mentre oltre l'80% delle violenze avviene nelle mura domestiche. Buonasera, allora dovrebbe iniziare a momenti questa cena, cena importante tra il premier Conte, il presidente della Commissione Europea Juncker, ci dovrebbero essere altri invitati, ma insomma questo nei dettagli lo sentiremo. Perché è stata caricata di così tanta importanza? Perché sapete bene, a metà settimana la bocciatura della manovra del governo italiano, bocciatura da parte della Commissione, seguita da polemiche fortissime. Poi sono arrivati i toni più bassi della vigilia già da ieri, con l'apertura anche da parte del premier italiano, da Conte, che ha detto la manovra siamo disposti a rimodularla, non toccando però il reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni, della legge Fornero. E allora che significa? Conte oggi dice, arrivando a Bruxelles, comunque siamo pronti a trattare ad oltranza. Non litighiamo, siamo amici. La stretta di mano di rito come fischio di inizio della partita più importante per il governo giallo-verde. La cena a Bruxelles tra il premier Conte, accompagnato dal ministro dell'economia Tria, ed il presidente della Commissione Europea Juncker, con lui il vice Dombrovskis e il commissario agli affari economici Moscovici, è il primo incontro dopo l'annuncio della procedura di infrazione contro l'Italia. Al centro del menù la manovra, bocciata dall'Europa e rispedita dall'Italia a Bruxelles senza quelle modifiche che la Commissione chiedeva, con contorno di scontri verbali a distanza, soprattutto dal lato italiano, che definire vivaci è un eufemismo. Ma nonostante il muro contro muro, dalle due parti si invoca il dialogo. Con Juncker negozeremo a oltranza, per quanto mi riguarda, nella misura in cui siamo disponibili al dialogo costruttivo e quando uso le parole non le uso a bambera. Quindi noi siamo convinti che nell'interesse dell'Italia e dell'Europa questa negoziazione, questo dialogo debba mantenersi aperto. Rimodulazione, la parola magica più volte pronunciata in queste ore da Conte, un modo per dire che il Parlamento potrà intervenire sulla manovra ma senza snaturarla e senza rinunciare ai punti considerati imprescindibili dai due leader alleati, la riforma della Fornero ed il reddito di cittadinanza. Ci sono passaggi parlamentari che possono ancora migliorare questa manovra, che non è a pacchetto chiuso, però non ci chiedano di togliere soldi dalle tasche di italiani. Per quello che mi riguarda non mi chiedano di cambiare la legge Fornero, anzi siamo solo all'inizio dello smantellamento della legge Fornero. Ridimensionare la legge Fornero, vero quota 100 che supera la legge Fornero e manda in pensione le persone, ridimensionare il reddito di cittadinanza significa aver perso tempo per cinque mesi. Su queste due misure non è ipotizzabile ridurre la platea. Premesse che rendono il compito di Conte più che arduo, tanto che come lui stesso ha spiegato alla Camera due giorni fa, la vera trattativa è sui tempi della procedura di infrazione. Tempi più dilatati vorrebbe dire rinviare le previste sanzioni a dopo le europee di maggio con una nuova commissione a Bruxelles e soprattutto nelle intenzioni e nelle parole del governo cominciare a vedere gli effetti della manovra sulla crescita, scommessa che per le opposizioni è già persa in partenza. Alla cena con Juncker cercherei un compromesso, suggerisce dal PD l'ex Premier Gentiloni. Con qualche passo indietro si potrebbero avere importanti fattori di distensione. La manovra immaginata dal governo ci indebolirà ancora di più, aggiunge la Forza Italia Giorgio Mule. Per questo è stata bocciata dall'Europa e per questo bisogna con umiltà cambiare rotta e avviare un confronto che ne corregga gli effetti. E' quindi la trattativa da fare perché strappare costerebbe tanto, tanto ai cittadini italiani. In questi giorni si è discusso l'aumento dello spread, è vero c'è una ricaduta, non c'è una ricaduta, ognuno ha sostenuto le sue ragioni. Quel che è certo è che Conte è andato a Bruxelles a trattare, se no il viaggio se lo risparmiava. Lo scontro prolungato ed estenuante con Bruxelles certo non aiuta, ma che l'economia italiana viva di per sé un momento decisamente delicato sono i numeri a raccontarcelo. Numeri che raramente mentono e che anzi sanno essere impietosi, come quelli delle stime di crescita del governo italiano contestate praticamente da tutti e come quelli dello spread con oltre 150 punti d'aumento dall'inizio dell'anno. E il differenziale BTP Bunda attorno a quota 300 è difficilmente sostenibile. Ieri ce lo ha ricordato Banca Italia, subito accusata da Di Maio di aver provocato l'ennesima impennata dello spread. Via Nazionale calcola che la ricchezza finanziaria degli italiani sia ridotta di 85 miliardi di euro, per non parlare degli effetti nefasti sui mutui. L'aumento dello spread insomma potrebbe annullare fin da ora eventuali effetti benefici della manovra del governo. E il conto lo paghiamo tutti, mentre le banche sono sempre più in difficoltà e non a caso l'Unione Italiana delle Imprese segnala che in 12 mesi i prestiti alle aziende si sono ridotti di 36 miliardi. Da qui anche la forte preoccupazione degli imprenditori che più che altro temono l'incertezza che induce a bloccare gli investimenti. Incertezza testimoniata anche dall'andamento dell'asta del BTP Italia. Un vero e proprio flop con la fuga del retail e il peggior collocamento dal giugno 2012. Ma il problema non si chiama solo spread perché le tensioni sulla manovra si sentono anche sul listino di piazza affari, sempre più distante da Francoforte, cheppure ha risentito delle difficoltà di Angela Merkel e della sua coalizione per non parlare di Parigi e Londra, che nonostante le tensioni sulla Brexit sono riuscite a contenere le perdite. Per Milano invece il conto è salato con oltre 70 miliardi di capitalizzazione andati in fumo. Tutti brutti segnali per il governo gialloverde, chiamato ora ad interventi urgenti per evitare l'incubo della procedura di infrazione da parte di Bruxelles. E allora per chi vuole sapere tutti i dettagli, la cena Juncker-Conte è iniziata ufficialmente e tra l'altro, ci comunicano anche il dettaglio, si tiene al tredicesimo piano dell'edificio dove si trova la Commissione europea. Un appuntamento, una convocazione importante è quella che riguarda il Partito Democratico verso il Congresso per l'elezione del nuovo segretario. Sapete, ci sono a questo punto tanti candidati in corsa, si sono iscritti in tanti, manca un nome forse quello più pesante. In questi anni si è litigato troppo dentro il Partito Democratico, tra il Partito Democratico e le forze sociali, tra il PD e gli altri gruppi politici. Ci si è troppo divisi ed è quindi tempo, non con pacche sulle spalle, di ritornare ad aprire un confronto sul futuro dell'Italia. Tra i litigi, Zingaretti. Mette anche quelli interni al PD. Lo aveva fatto già ieri, polemizzando con i gattopardi che fanno tutte le parti in commedia. Al PD serve cambiare, aveva detto. Ma almeno su questo, tra i tre principali candidati alla segreteria in campo, Minniti, Martina e lo stesso Zingaretti, sono tutti d'accordo, così come sulla necessità di recuperare credibilità presso i ceti deboli. Quei ceti, per dirla col Minniti di oggi, di cui la sinistra riformista non ha saputo raccogliere le invocazioni di aiuto. L'ultimo arrivato tra i candidati ora in campo, Martina, al quale sembrava pensare ieri Zingaretti parlando dei gattopardi, chiede rispetto tra tutti noi per l'impegno che promuoviamo per il rinnovamento del PD, senza polemiche stupide e senza astio. Ma dentro il partito, tra parole e cose, c'è ancora molta distanza. Lo fa capire perfino Gentiloni, uno che ama sempre la sordina. Il rancore non fa bene al Partito Democratico, dice, tenendosi a distanza dalle polemiche sollevate da Renzi. Cerco di non alimentare altra tensione, aggiunge, io sto alla Camera, lui al Senato. A differenza di Renzi, Gentiloni si è schierato per Zingaretti, ma è probabile che la corsa per la segreteria vada oltre la data delle primarie. Il 3 marzo, quanto sembra, con relativi litigi già partiti su come organizzarle, vista la difficoltà di superare la soglia del 50% di preferenze, anche se Zingaretti si dice ottimista. Per questo già si guarda al rinvio all'Assemblea nazionale e dunque alle dinamiche tra le varie correnti. Difficile parlare invece di correnti a sinistra del PD, semmai di una galassia di posizioni e sentimenti anch'essi provati dalla sconfitta elettorale. Siamo nati per unire e questo resta il mio principale obiettivo, quella di oggi e l'ultima chiamata. Lo ha detto Grasso intervenendo all'Assemblea dei Comitati Territoriali di Liberi e Uguali, sul cui futuro è Francesco Lafoggia a parlare. Ho letto in questi giorni la notizia del funerale, dei liberi uguali. Più che di funerale c'è bisogno di un battesimo, di una sinistra, che in questo paese non c'è. E adesso a Parigi dove è stata una lunga giornata di scontri violentissimi tra manifestanti e forze dell'ordine. Sapete, sono giorni che va avanti la protesta dei cosiddetti gile gialli. protestano contro l'aumento del prezzo della benzina, ma, diciamolo chiaro, è diventata anche una protesta contro il governo e contro il Presidente Macron. Ma, dicevamo, a Parigi scontri violentissimi. Ci sono 24 feriti anche tra i manifestanti e altri tra le forze dell'ordine. Ci sono 34 persone fermate nel corteo, nella manifestazione, che va avanti da stamattina. La manifestazione doveva iniziare dopo pranzo, ma in città già c'erano manifestanti della mattina e già sono iniziati gli scontri nella mattinata. Dicevamo, si sarebbero infiltrati gruppi di estrema destra. Per questo il Ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha accusato la leader del fronte nazionale Marine Le Pen di aver incitato ai disordini. Parigi nel fuoco, immagini di pochi minuti fa, calma relativa adesso, dopo otto ore di guerriglia sui campi Elisi, 20 manifestanti con il gile giallo feriti, 34 quelli fermati, 4 poliziotti ricorsi alle cure dei medici. Erano in 10.000 o poco meno le persone scese nel centro della capitale francese sin dal mattino presto, nonostante i divieti del Ministero dell'Interno. Questa forse è l'immagine simbolo di quel che sta accadendo in queste ore a Parigi, un'icona forte che non lascia intendere la fine della protesta come vicina, tutt'altro. L'assedio al palazzo del Presidente, se possiamo dire, va avanti, Macron nel mirino e oggi c'è chi ha guadagnato metri in avvicinamento verso le strade dell'Eliseo, la zona rossa vietata e protettiva. E poi la cronaca, chi dice lacrimogeni, granate assordanti, idranti ad alta pressione e scontri fisici a cui avrebbero partecipato quelli che il Ministro Castaner, il Ministro dell'Interno, definisce violenti per professione, i casseiro, ma anche un centinaio di esponenti l'estrema destra, da cui appuntare il dito contro Marine Le Pen. Accusata da Castaner di cavalcare la protesta, il passo è stato breve, un'accusa patetica e disonesta, risponde la leader nazionalpopulista. Il movimento dei gilai gialli, apparentemente sembra non avere leader conosciuti, non ha portavoce ma grande esposizione sui social, un seguito di decine di migliaia di persone di una forte capacità di mobilitazione, da quanto si è visto in questi giorni. Non chiedono solo la soppressione totale delle tasse sui carburanti, vogliono anche l'IVA all'1% sui prodotti alimentari, il taglio degli stipendi dei politici, il taglio della spesa pubblica in generale e pensione per tutti a 2000 euro mensili. Temi da rivolta sociale, ora di sinistra, ora di destra, forse non conta. Aspettando lunedì giorno del ritorno alla vita lavorativa, vista la determinazione di chi è in piazza, si ha la sensazione che quello dei gilai sia un movimento di protesta destinato a lasciare il segno, tra le pagine di storia francese recente, con l'obiettivo primo il Presidente Macron, dato ormai in caduta libera nei sondaggi sul gradimento della sua persona e del suo governo da parte della gente. E dicevamo in apertura della cena a Bruxelles-Conte Juncker, ecco, i due saranno domani sempre a Bruxelles, al vertice per l'accordo storico sulla Brexit, dopo lunghi mesi, anni di trattative con anche a Londra contestazioni, lo sapete, da chi era contro la Brexit, ma anche da chi ha accusato, ricorderete i problemi all'interno del governo con tanto di dimissioni, critiche alla May per non aver difeso a sufficienza gli interessi britannici. C'era stato, e lo sentirete tra poco nel servizio, anche un caso all'ultimo Gibilterra con il Premier spagnolo Sanchez che era pronto a non firmare l'accordo e a far saltare, a rischiare di far almeno slittare tutto. Poi, poi che è successo? Sentiamo. Per la Gran Bretagna almeno un May Day, nel senso di aiuto e non della Premier, per ora è rientrato e la Brexit sembra sempre più vicina. A poche ore dal vertice straordinario la Spagna ha infatti raggiunto un compromesso con l'Unione Europea su Gibilterra e di conseguenza ha annunciato il suo via libera all'accordo che sarà formalizzato domani al Consiglio di Bruxelles. Ho appena comunicato al re di Spagna, ha spiegato il Premier Sanchez, che siamo arrivati a un'intesa, dunque toglieremo il veto e voteremo a favore dell'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione, perché, ha proseguito, gli interessi nazionali del nostro paese sono stati tutelati. E non era affatto scontato, la rocca di Gibilterra, da sempre rivendicata dalla Spagna per la sua posizione strategica e impareggiabile, è il simbolo del potere navare britannico ed è l'avamposto che controlla e domina i collegamenti marittimi fra Atlantico e Mediterraneo. Infatti la May poco fa ha ribadito che la posizione su Gibilterra del Regno Unito non è cambiata. Ma tant'è, con ogni probabilità domani durante il Consiglio Europeo straordinario la Premier incasserà il via libera dell'Unione all'accordo, peccato che le manchi quello in patria. La sua trattativa è stata praticamente contestata da quasi tutti in Gran Bretagna, anche se per motivi diversi. I Tories sono spaccati, i laburisti di Corbyn cercano di recuperare consensi cavalcando il sentimento anti-Brexit e anche gli unionisti nord-irlandesi che tengono in piedi di fatto il governo May oggi si sono confermati contrari. La May, ha spiegato alla leader del partito Foster, non è stata in grado di garantire che non verrà introdotto il meccanismo di backstop, che significherebbe, in altre parole, per Belfast rimanere nell'orbita europea e allontanarsi dal resto del Regno Unito. Dunque, quando il testo dell'accordo sarà messo ai voti nel Parlamento Britannico saranno dolori perché la fine non è affatto nota. Quel che è noto invece è che un eventuale no di Westminster potrebbe creare notevoli problemi. Sarebbe un caos, ha dichiarato alla BBC il ministro dell'economia, Philip Hammond. Le conseguenze potrebbero essere molto serie, comprese quelle di un calo dell'occupazione. Ci sarebbero decine di migranti morti mentre provavano ad attraversare il Mediterraneo, nuova tragedia accompagnata da polemica tra l'Italia e Malta. è Salvini che accusa la navigazione maltesi di aver cercato e poi fatto dirottare la rotta di questa imbarcazione con centinaia di migranti a bordo che erano vicine a Malta e questa guardia costiera maltese avrebbe fatto continuare la rotta appunto verso l'Italia. Salvini accusa Malta ed anche l'Unione Europea. Ci risiamo. Matteo Salvini a metà pomeriggio introduce così una nuova puntata dell'ormai cronica tensione diplomatica tra il governo italiano e le autorità di Malta. Il ministro posta la foto di un'imbarcazione con almeno 150 immigrati che viaggia in direzione dell'Italia. Un pattugliatore maltese, spiega Salvini, ha invertito la rotta e ha abbandonato in mezzo al Mediterraneo i migranti. Qualche ora prima il Viminale aveva comunicato che la guardia costiera maltese aveva assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso di un'imbarcazione in difficoltà partita dal porto libico di Zlitten. Come al solito sta cercando di rifilare gli immigrati al nostro paese, accusa Salvini che poi se la prende con Bruxelles e l'Unione Europea troppo impegnate a scrivere letterine contro l'Italia per occuparsi di questi problemi. Poco fa il motopeschereccio è stato intercettato a largo delle coste siciliane tra Portopalo e Pozzallo da tre mezzi navali italiani. Adesso si dovranno valutare le condizioni dei migranti a bordo e decidere se trasferirli sulle navi italiane oppure concedere un approdo al motopeschereccio in un porto sicuro. Un altro gommone in avaria con centinaia di persone in difficoltà era stato segnalato qualche ora prima dalle tre ONG tornate in mare con l'imbarcazione Marionio e subito attive nel canale di Sicilia. In base alle segnalazioni raccolte il gommone in avaria imbarcava acqua e alcune persone erano già annegate. L'imbarcazione si trovava nei pressi delle piattaforme petrolifere di fronte alle coste libiche con a bordo un centinaio di migranti, quasi tutti provenienti dal Sudan. I primi a intervenire sono stati i marinai di un rimorchiatore in servizio proprio presso le piattaforme che hanno tratto in salvo i migranti e poi li hanno consegnati alla Guardia Costiera Libica che inizialmente, secondo la versione fornita dalle ONG, non aveva risposto alle segnalazioni ma poi ha inviato le motovedette nella zona del soccorso. A largo delle coste del Marocco invece un'altra imbarcazione con 70 persone a bordo sarebbe stata abbandonata al proprio destino e secondo la rete privata di soccorso Alarm Phone molti sarebbero già morti annegati. Spagna e Marocco, si legge nel tweet di allerta, sono state informate ma non hanno disposto alcuna operazione di salvataggio. In Kenya adesso dove la polizia avrebbe identificato tre presunti rapitori Silvia Romano, la ragazza cooperante italiana 23 anni sequestrata, lo ricorderete martedì scorso, i loro nomi e identikit sono stati diffusi. è una ricompensa è stata fissata per chiunque fornirà informazioni utili, si legge in un comunicato ufficiale, per l'arresto dei responsabili, i membri di un commando armato che il 20 novembre scorso ha rapito la ragazza che lavorava in un orfanotrofio nella contea di Chilifi. Al momento sono state arrestate 20 persone ma non è arrivata nessuna rivendicazione sul sequestro. E domani è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Oggi in Italia tante manifestazioni, manifestazione importante con tante persone, tante donne anche a Roma, a ricordare quella che è una strage vera e propria perché sono decine le compagne, le mogli, le donne uccise da mariti, fidanzati, da uomini solo nel 2018 e è successo anche oggi. La storia violenta di oggi, solo l'ultima, arriva da Firenze dove una ragazza cinese di 21 anni è stata uccisa in un ostello dal fidanzato messicano Reo Confesso. A Rimini sempre oggi è stato arrestato un uomo con l'accusa di aver portato al suicidio per le continue vessazioni la moglie. Due giorni fa vicino a Mantua un ex marito per vendicarsi della moglie ha dato fuoco alla casa di famiglia dove è morto il figlio di 11 anni. Storie di violenze familiari come quelle contro Sara Di Pietrantonio, Desiree Mariottini, Pamela Mastropietro che sono solo alcuni dei nomi di donne che non ci sono più per colpa della violenza dell'uomo, mariti, fidanzati che sono stati scanditi oggi nel corteo di Roma. L'inizio di un capitolo che domani in tutto il mondo scriverà una pagina importante è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dal 2000 ad oggi in Italia sono state uccise 3100 donne, quasi 3 alla settimana, la maggior parte, oltre l'80% di questi femminicidi è avvenuto in casa. A Roma 106 palloncini rosa prendono il volo verso il cielo, la manifestazione è organizzata dal movimento, non una di meno, un palloncino per ogni donna uccisa in questo 2018. Bisogna denunciare, non sottovalutare, siamo 150 mila, urlano le organizzatrici dalla piazza della capitale. Le manifestanti attaccano soprattutto il DDL Pilon sull'affido condiviso, il disegno di legge va cambiato perché mette a rischio la vita dei minori e delle donne madre. E lo slogan domani saranno circa 600, le iniziative di sensibilizzazione nei comuni bandiere civiche a mezz'asta, a Milano, in 15 teatri convenzionati con Palazzo Marino, ci sarà un posto vuoto per ricordare la donna che avrebbe potuto occuparlo prima di essere uccisa. A Latina l'orologio della torre civica si colorerà di rosso. Al fianco delle donne anche lo sport e i giocatori della Serie A in campo con un segno rosso in viso, piccoli gesti, come quello accaduto oggi a Milano dove il comune ha fatto rimuovere dalla vetrina di un negozio del centro una pubblicità sul Black Friday che raffigurava una donna uccisa e un'altra con un serial killer alle spalle pronta a colpirla. Un miliardo e mezzo di euro attanto ammonta il patrimonio di beni che è stato sottratto agli erelli di Carmelo Patti, chi è l'imprenditore siciliano di Castelvetrano scomparso due anni fa, ex proprietario della Valtur, considerato vicino al super latitante in mafia Matteo Messina è un impero quello di patti che secondo gli inquirenti è frutto di illecite frodi ed evasioni fiscali con attività servite anche a riciclare proventi della mafia, beni che ora tornano nella disponibilità dello Stato grazie al provvedimento di confisca, uno dei più importanti negli ultimi anni realizzato dalla direzione investigativa antimafia. Nell'elenco ci sono conti correnti, alcuni resort, terreni, un golf club oltre 200 immobili ed un veliero anche di 21 metri. Ed ora lo sport perché iniziamo con una buona notizia in chiusura che arriva dagli Stati Uniti con la prima vittoria stagionale per Federica Brignone, quindi siamo nello scis, slalom gigante di Killington ha migliorato il podio ottenuto nella prova d'apertura sulle nevi europee di Solden. La Brignone nella seconda manche è riuscita a scalzare dalla testa della classifica la norvegese Movinkel che la precedeva al termine della prima manche. Per il calcio, per il calcio invece negli anticipi cade la Roma a Udine, 1-0 gol di De Paul, vince la Juventus a partita terminata pochi minuti fa, 2-0. Ronaldo, immancabile, Mangiukic, gli autori dei gol. Rivolgiamo tra l'altro i nostri auguri all'allenatore del Torino Mazzarri perché ha avuto un lieve malore domani, scusate, lunedì nel posticipo, non sarà in panchina ma da quello che si sa insomma niente di grave auguri di pronta ripresa a Mazzarri. Mentre una notizia che è arrivata adesso, sapete della finale, la Coppa dei Campioni Sudamericana, si chiama Libertadores. Oggi, questa sera, tra qualche minuto, doveva a questo punto iniziare la finale di ritorno, finalissima tra due squadre di Buenos Aires, sentitissima. River Plate e Boca Junior. Ebbene, che è successo? Che ci sono incidenti gravissimi con l'autobus che stava portando i calciatori della squadra del Boca allo stadio del River Plate. E leggiamo insieme a voi. È stato attaccato l'autobus con i calciatori a bordo da un gruppo di facinorosi che hanno rotto i finestrini, ferendo varie persone e anche due calciatori, Perez e Yara. I dirigenti della squadra del Boca hanno chiesto la sospensione della finale che doveva cominciare tra poco, tra una mezz'ora, sono i 26, quindi tra 33 minuti. Sugli spalti dello stadio del River ci sono già 50 mila spettatori, finalissima, lo dicevo, attesissima in quanto un derby di Buenos Aires, ma a questo punto, visto quello che è successo, non si sa più se si disputerà o almeno questa sera. Dopo di noi, ospiti di 8 e mezzo, Lilli Gruber, ci sono Emilio Del Bono e Stefano Buffagni. Noi ci rivediamo con altri eventuali aggiornamenti tra poco, dopo la pubblicità. E allora, rieccoci in studio, non ci sono aggiornamenti particolari e quindi è il momento di dare i saluti, ricordarvi l'appuntamento adesso dopo il Tg 8 e mezzo. Per quanto ci riguarda è tutto, buon proseguimento.